15 giorni per lo studio di fattibilità ed il progetto pronto entro dicembre. Va di corsa l'idea di costruire un nuovo rigassificatore a Piombino. Dopo l'incontro svoltosi in comune tra i tecnici di SNAM, che ha avuto il mandato dal Ministero per la Transizione Ecologica di reperire due navi da rigassificazione, il sindaco Francesco Ferrari ed il governatore Eugenio Gianni. Tra gli aspetti da valutare, i tecnici prenderanno in considerazione la profondità del fondale del porto, che comunque è di 20 metri, e soprattutto le modalità di emissione della gas nella rete, nonché la compatibilità dell'installazione del rigassificatore con l'attività ordinaria del porto di Piombino, con le attività di iticoltura portate avanti nel golfo di Follonica e con le attività turistiche. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è quello di utilizzare la disponibilità per la costruzione del rigassificatore, indispensabile vista la crisi energetica, come grimaldello per iniziare una discussione finalmente definitiva sul fronte GSW. L'altoforno è spento dal 2014 e adesso l'azienda appare come un colosso rugginoso. Al termine del vertice, i sindacati, in presidio sotto il comune, hanno chiesto l'UMI al primo cittadino, sottolineando come a Taranto lo Stato abbia messo 420 milioni, mentre su Piombino per ora non si è mossa una foglia. La richiesta, dunque, è che lo Stato faccia la sua parte all'interno della compagine societaria della ex Lucchini, in cambio il territorio non porrà veti sul progetto del rigassificatore.